Altra università, quella Politecnica delle Marche, dove sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato al contest dedicato ad Alcea Moretti. Noi abbiamo proposto delle idee da sviluppare nell'offline, legate quindi alla sponsorizzazione degli eventi e un'altra attività da sviluppare nelle città con dei box interattivi che riproducono delle scene di vita quotidiana in cui l'utente può utilizzare il prodotto e anche i mezzi di comunicazione tradizionali online, quindi i canali social. Luci è uno dei 50 studenti che hanno partecipato al contest Alcea Moretti dal nome del pioniere marchigiano della comunicazione scomparso nel 2012 che da anni ormai viene organizzato alla Facoltà di Economia Giorgio Fuà dell'Università Politecnica delle Marche, nell'ambito del corso di marketing. I ragazzi, divisi in sei gruppi, si sono sfidati a colpi di creatività come vere agenzie di comunicazione, creando campagne con nuovi stili e mezzi di comunicazione per il gruppo Estra, tra i leader in Italia nella fornitura di gas naturale e di energia elettrica e primo operatore nelle marche. Simulare, rendendoli più possibili vicino alla realtà, una problematica che poi gli studenti incontreranno nei mesi successivi alla laurea, svolgendo e risolvendo problematiche, in questo caso, di comunicazione. Ed oggi si presentano in challenge, in sfida fra di loro, una sfida che però è una sfida costruttiva, cercando di presentare la migliore campagna di comunicazione, in questo caso per il partner Estra. A vincere è stato il gruppo dell'Uminers che ha proposto di implementare un'app coinvolgendo l'utente in attività sostenibili in tutte le fasi della giornata. Estra ha chiesto loro di aiutarli nello sviluppo del progetto coinvolgendoli operativamente da gennaio e questo è proprio l'obiettivo che il contest si pone. C'è un valore aggiunto derivante dall'opportunità di avere non solo professori che di solito sono un po' al di fuori del mondo dell'impresa, ma dei contatti continui e costanti con imprenditori che svolgono le loro funzioni e quindi riescono a dare un contenuto applicativo a quello che noi diciamo allezioni. Dopo Clementoni, Adembiaggi, Rembo e Fratelli Guzzini, è ancora un'azienda di primo piano ad offrire ai ragazzi l'opportunità di mostrare il proprio talento. La Estra, la Multi Utility, ha visto l'ingresso della marchigiana Viva Servizi. Noi come azienda utilizziamo queste risorse giovani e fresche dell'università per avere spunti ma anche per avviare eventuali collaborazioni con gli studenti e per gli studenti io penso che sia l'occasione di vedere una realtà che all'università purtroppo non si riesce a vedere. Stiamo immaginando una collaborazione, dei tirocini formativi, collaborazione su dottorati su corsi ad hoc che possono essere utili al miglioramento delle nostre pratiche aziendali quindi è necessariamente uno sfogo, un obiettivo finale, quello di un osmosi tra mondo della scuola, dell'università e della nostra azienda che continua ad assumere, ogni anno assumiamo 30-40 unità e continuiamo a crescere.